Stamani c'è una bellissima manifestazione, c'è una prova su selvatica battuto che riguarda che i primi sei che si vengono classificati a categorie vanno poi direttamente al campionato nazionale organizzato è un trofeo diciamo dell'arcicalcia. Bene allora Massimo ci vediamo a metà mattinata così maggiori come sta andando la gara. Sì ora poi si va a fornire diciamo la selvaggina abbiamo fatto tre campi di gara portiamo la selvaggina sui campi di gara e poi dopo andiamo un pochino a vedere com'è che funziona questa bellissima manifestazione. Vai alla grande Massimo a dopo. Grazie ciao ma diciamo però fino a ora è andato tutto bene abbiamo avuto anche la soddisfazione da aver parecchi padelloni diciamo in questa prova su selvatica battuto sono tutti i cacciatori che ci vogliano bene perché padellano animali pertanto ci rimangano sul territorio. Ora siamo giunti all'ora di pranzo come si vede le persone sono quasi tutte a pranzo abbiamo ancora un campo di gara sempre efficiente che si pensa che terminano fra un'ora comunque diciamo per ora bellissima soddisfazione tantissimi partecipanti la cosa sta andando molto bene siamo soddisfatti